Una buona giornata a voi tutti amici di Meteo Giuliacci, un saluto da Giuseppe Davitis. Continua questo flusso di aria fresca dal nord Europa verso l'Italia, soprattutto verso l'Italia settentrionale. Quindi, attenzione, qualche rovescio di pioggia nella primissima parte della giornata sulla Sardegna, poi si accenderà ancora una volta dell'instabilità e attenzione anche alle possibili grandinate sul nord Italia. Rovesci di pioggia temporali sparsi, poi anche verso le regioni centrali, in particolar modo sulla fascia centrale e orientale. Vedete il sud un po' più ai margini, con cielo poco, irregolarmente nuvoloso, ma in realtà poi prevarrà il sole anche con temperature estive, praticamente valori che potranno raggiungere anche i 26-29 gradi, valori praticamente da inizio estate senza eccessi per il momento. Qualche isolato nucleo instabile ci sarà tra la Basilicata e la Puglia centrale, però nulla di rilevante. Il maltempo, il tempo instabile incerto invece sarà soprattutto al centro e al nord, ancora una volta. Per il momento è tutto, buon proseguimento di settimana, arrivederci.